Di che cosa stai parlando Davide? E' il tuo pene! E' la pannocchia! E' la pannocchia! E comunque stiamo registrando! Dico a salutare la gente che c'è! Non è stata pannocchia quello che è Gran Turco! Dico a meno di salutare questa gente che ci segue e ci guarda! Noi non salutiamo un cazzo di nessuno! No assolutamente perché potremmo morire da un momento all'altro! Io per esempio ho tutto lo schermo nero e non vedo più nulla! Perfetto! Quindi non vedranno più nulla neanche loro! Sai che non lo so! Mi aspetta che il tuo schermo sorrida! Dovrei fare il controllo! Ok adesso vedo! Vabbè dico spieghiamo un attimo la mappa a Davide! Eh così anche la capirò! Io che ho un neurone per fare una cosa alla volta! Aspetta un secondo! O sparo o spiego! Forca troia! Ho 200 munizioni e il taser me le sta facendo usare tutte! Stavo per fare una roba figa tipo sparare il taser al volo ma non ce l'ho fatta! Mi ha preso prima lui! Eh qua la sola eh! Qua ce n'è una rossa la mando tu? Comunque dico spieghiamo un attimo quello che stanno vedendo! Ma perché bisogna capiranno quello che stiamo facendo no? Se ce l'ho lo capiamo noi quello che stiamo facendo! Porca! È meno di una settimana che giocano o non ho ancora capito una mente? Io posso spiegare quello che ho capito io di questa missione! Cioè che siamo su una sorta di tavolo da cucina! Per metà per la mina ovviamente! Solo che siamo ben miniaturizzati! Se fossi me in cucina perché c'è un bambino che piange? Non è un bambino che piange! Se tu conoscessi Left 4 Dead 2 noteresti la somiglianza con il grido della witch della strega! No! Non andare niente ancora! Non andare niente ancora! Non andare niente ancora! Caccia! Ti sta dando dall'ignorante eh! No eh! Tiratemi su per favore! Vedete? Non posso spiegare e giocare! Eeeh! Boom! Ma ragazzi non è che c'è il ragno e per questo sta demorando? No! Sono solamente saltato dal filo facendo Batman! Ah buono! Solo che non sembra aver saputo l'effetto desiderato! Se non sbaglio questo era nato come un evento di Halloween no? Esatto! Esatto! Solo che poi sembra essere pezzi totalmente tanto che è stato ammesso come missione permanente! Esatto! Ma bisogna essere dei malati di mente perché piaccia questa missione! E quindi questo spiega la presenza dei bulldozer bianchi senza testa! Vabbè sostanzialmente tavolo della cucina noi miniaturizzati dobbiamo cucinare metanfetamine e muori! Eeeh! Come stai con la mia nonna quando ero piccolo! No! Dobbiamo dire che in realtà non siamo qui per finire la missione ma per fare un obiettivo! Sì! Sì! Io sono qua solo per rimanere vivo! La mia massima missione è quella! Tu sei qui per aumentare la difficoltà di gioco è diverso! Esatto! Io ho aumentato la difficoltà di gioco! Guardiamo che con noi c'è anche Elia! E lui non sappiamo neanche se si chiami Elia in realtà! Ma per noi lui è Elia! Perché era un uomo! Che ci dà una mano? A tenere in vita! A tenere in vita Palmier! Ecco! Se vedi io sono l'anziano e loro sono i miei badanti! Esatto! E le missioni sono i tuoi cantieri! Esatto! Perché a parte guardare non fai niente! Ma non ci posso vedere che fanno la malta in questo modo qui! Ma oltretutto ci vuoi spiegare perché sei passato a Zio Fanello? Cosa? Perché sei passato a nome Zio Fanello! Perché hai visto domizzo con l'ombrello, no? Eh, ostia! C'è la morta! Sono morta anch'io! Non potevo vivere senza Shin89! Che non so per dire! Comunque condividerò una cella a quanto pare! Speriamo di no! Non ce la faccio! La branda sopra è mia! Cerchiamo uno stagio lì! La branda sopra è mia! Quindi ti faccio un ritaglio del materasso dove ho il culo! E adesso ti ha fatto il tutto su me! Chi rinascerà per primo? Io o Nino? Spero Nino! Eh? Vai vai vai! Quindi se rinasco prima io... No! Sto rinascendo io! No! Mi serviva quello da... Quello scudola? No! Il tizio a cui hai sparato in testa! E ti serviva con la testa? Eh... Di sì! Credo di sì! Che mi ha riammazzato l'ostaggio! Ah no! Vetti il ragno! Vetti il ragno! Vetti il ragno! Vetti il ragno! Dov'è? Dov'è? Ogni tanto compare un ragno gigante! No! Ci siamo persi! Oh no no no! Tanto è Shin89 possiamo vederlo che prende il sole! In mezzo a una coltre di nebbia a Milano! Ecco cecchinato! C'è un cecchino nascosto! Ah! Aiuto! Ucciso! Ok! Davide dobbiamo salvare... Il soldato Palmio! Il soldato Palmio! Ma è necessario! Il soldato Palmio! Io ho un problema di munizioni! Ce la fate? No! Ogni tanto mi perdo con la mira! No! No! Ottimo! Allora amici! Come se dividiamo la centina! E come fa a dire la missione? No! Centone è lì! Ci fa salvare tutti! Vero? Vero! Che si è fatto arrestare per salvare! Ma come hai fatto a tornare? Mi sono perso qualcosa Nino! Tu non eri in cella! No! L'ho salvata io! Però la sono finita in cella! Ma che cazzo! C'è qualcosa che non va con le tue schermate lo sai! No! Bastardo! Ed ecco Nino per Parkinson! C'è chi no! 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 Dietro l'exotan! Dietro l'exotan! Dietro l'exotan! Dietro l'exotan! Hai visto il mio prato verde? Ma vedi! Oh merda 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 merda! Merda! Scappa di là! Fuggi! Aspetta c'è un burrodozar mega dozar! Fuggi sciocco! No! No! Non ho memoria di questo luogo! Ma c'è qualche stagio ancora in vita? C'è! Pausa sigaretta? Sì vabbè! C'è ci sono altri due bulldozer ragazzi! Non c'è ne modo! Se tiro una canata rischio di prendere anche qualcuno! Allora quando finisci di fare Rambo per favore! No! Ecco! Sapevo! E questo signori è come fa a dire Ramissima! Scusate! Fate solo le cose che vede in comune! No no! Davide e Nino! Abbiamo il pene grande tutti e due! Bellissimi tutti e due! Tutte le facciamo alle donne! Abbiamo il macchinone! Siamo ricchi da far schifo! Siamo dei buoni partiti per tutti! Quelli quasi mi penso di non essere gay! Guarda! Un bel sandwich con voi due sono sistemata a vita! Vuoi diventare la mortadella del nostro rapporto! Ah! Così! Facile facile! Adesso come si chiama? Che babà! Che babà! Adesso cuciniamo un po' di metallo! Che babà! Ma questo è un che babbara napoletano! Esatto! È un pasticcere napoletano che babbara! Allora! Sì ma forse dovrei essere passato fuori a far entrare l'altro! Forse! Ma perché non è Davide che babà? Sì! Ah! Sei tu! Finite di confondermi! Ma stai registrando? Sì! Ah! Quindi parli della registrazione mentre registriamo! Non stai rompendo la quarta parete? E tu che parli della quarta parete quindi che cosa diventa? Un bianchino! Ah! 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 Non s'è vicino! Ah! Non s'è sola! Ma? Mi rimetto qua dentro. attenzione ma ancora non l'hai usciso Davide? non muore qualcosa dice il contrario non è de pro cioè il cadavere è il cazzo è sparito il cadavere ma lei sta dormendo ma lei non ha un cantiere da andare a vedere mi scusi tu sei il mio cantiere ti sto costruendo da quando ti conosco sembra quasi una dichiarazione d'amore e ne sono impaurito sei impaurito dai tuoi sentimenti io non ne ho sentimento però se ti avete visto il nuovo anello della Durex? quello pubblicizzato dei lichinghi? non so perché no lo buttate in un vulcano l'ultima volta ce va a diventare invisibili eh però ma anche ti spariva del tutto il pisello o era solo invisibile? cosa? no sai perché finché è visibile mai lo si può toccare puoi sorprendere guarda come se l'altra ha l'idea di un pene invisibile non mi fa ridere non mi fa ridere non mi fa ridere che vizio che hanno questi nemici di sparare ma chi è che continuo a spararmi da zero? ma dove arrivano sti colpi? da dietro dove più ti piace no se c'è stata strano nessuno è ancora finito in galera non abbiamo fatto una minchia di quello che avremmo si ma il gioco mi imbroglia mi sparano attraverso i muri c'è un burro d'olta bianco stavo cadendo butta fuori il gioco dalla partita che mi stai imbrogliando no sono caduto chi è che mi si sta sovrappermando? io io vabbè vado a salvare Nino cazzo bravo no sono caduto fuori la piazzoletta per fare la figata di sparare al mondo no no sono caduto sulla cassaforte no a tutti no a tutti Elia aiuto 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 adesso lì vedi che si scopre ah quindi voi avete detto tutte ste stronzate finora eh adesso avete iniziato a torturarti scusate ma non possiamo lanciare non so un boom stand gigante in testa una beuta hai la faccita da beuta? dai che mi prendo tutti insieme come? hai la faccita da beuta? aspetta che guardo nel libro dell'espressione è così che Davide si ricordò di avere un secondo fucile sto parlando di mente a questa persona tranquillo perché ricordiamo che siamo due Davide è lo sintomo della psicopatia lo sai vero? non l'ho mai nascosto di essere ma se invece tu non esistessi fosse solo io? e se io a mia volta fosse una rappresentazione del tuo non esistere? si e te fossimo i marocco? allora Nino è il cane del marocco lo che hanno lasciato in India no lui è Kino no lui è Kino non siamo i marocco e Kino marocco e Kino ragno ragno dove è? dove è? vedi quelle zampe pelose? ok ok l'ho preso io sono l'indizio di dove si trovi il ragno mi hanno appeserato eh cazzo forse riesco a salvarti ce la posso farcela 4,3 e giuro che passa per il capitano mentre mi mettevo gli occhiali hanno fatto il tempo a crivellarmi di coccole no son da solo eh si è stata arrestata non sto caricando no no Davide lì ce ne è posto più sbagliato ce ne è posto più sbagliato addio non mi farò catturare ah ecco come si sa adesso cosa c'era ah vai metti metti la borsa metti la borsa sopra di nè sopra di nè sopra di nè lì 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 dai la zipline la zipline vai vuol dire che era scivole a casa no no se l'hai tirato addosso l'ha fatto di meglio un applauso un applauso the master of molog 92 minuti di applausi Davide sta arrivando un bulldozer bianco ho paura un bulldozer bianco ma perchè il capitano non muore c'è che l'ha preso ti zecchino no c'è il ragno c'è il ragno c'è il ragno è il ragno c'è il ragno io ragno c'è il ragno sei morto il cacchino non ah 2 cacchini 3 cacchini mazzamore ragno tirami su ragno tirami su che viene a togliare te se il ragno ti prende ti porta una regnatela e te la porta una musica sexy una delle peccate parto di un sexy gatto poi sì oggi guarda Grazie a tutti.